Presidente, il collega Pannella con uno sciopero della fame e della sete in corso ha aperto il primo grande Satiagra mondiale per la pace, Satiagra azione non violenta collettiva. Si tratta di una vicenda sulla quale vorrò informare i colleghi per iscritto, che riguarda il rispetto della parola data in democrazia e che è emblematica non solo per la situazione italiana. Permettetemi anche di ricordare che oggi è il 49esimo anniversario del sollevamento del popolo tibetano contro la repressione cinese e salutando da qui il Dalai Lama e le decine di migliaia di persone in marcia ad Aram Sala, tra i quali anche i dirigenti del Partito Radicale, Sergio Delia, Matteo Meccacci e Marco Perduca. Siamo informati ora che la Polizia indiana starebbe intervenendo per impedire questa marcia e quindi doppiamente a loro va il nostro saluto. Grazie.